Allora, ho sentito app a cuore di questi video, ho fatto un video che la c'è ultimamente a volte, ma molto spesso e che non c'è più un momento tempo, perché io uso un app che è molto facile usare, quindi se prendete per più tempo con che amassare di costruire quest'app, comunque ad esempio, come sa, tu fai così, perché ho scritto con quale app vuoi, io sto usando attualmente mobile, ho fatto una foto, per fare più foto, che ne so, più personali, i video che c'ho qua, ne sto facendo in pratica, quindi, quindi sì. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 tipo lungo 5 secondi se la scena tipo dove si muove il personaggio 5 secondi là, 0,5 secondi perché devi farla veloce oppure anche 0,3 secondi come vuoi tu e questo che è tipo sta in piedi un secondo e questo parla un secondo normalmente ok questo è scaricabile muschia questo è molto facile di usare perché ci hai fatto qualcosa molto bello, sì questo è molto come edito un video seriamente un coso che quello della scuola ad esempio, sì sì questo è il scherz che ho preso un secondo perché un personaggio come è una scena un secondo e questo video non dovete fare nulla quindi vabbè adesso è il momento che voglio mettere la musica vabbè intanto metto le brani che non so quindi sta appena finito quindi si adesso non sto per poter ma si sta per poter tutto non sto per poter Ah, basta, sono una cosa che gli faccio schifo, ah, basta, vai teniamo come un simulare l'aula, adesso e aggiungiamo un'altra cosa. Non si sa che sia lievevo, non si sa che sia lievevo, non si sa che sia lievevo. Ehi! Vieni! 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 Ehi, stop!